Caroline Smith è giudice di Ballando con le stelle oltre che ballerina professionista e presto tornerà sul piccolo schermo Anche se la sua passione e il suo lavoro sono ben noti, non tutti sanno invece chi è suo marito, un uomo molto affascinante e famoso che è stato sempre al suo fianco anche nei momenti più difficili I due si divertono talvolta a postare video su social, in momenti quotidiani o di racconto Il pubblico che la segue con attenzione sa quindi di chi si tratta, tuttavia i fan del programma che ben presto potranno rivedere Ballando e la giuria al completo, non hanno informazioni dettagliate sulla vita privata della donna e, soprattutto, su suo marito Caroline Smith, il marito famosissimo, cosa fa appunto la ballerina di origine inglese è molto famosa al pubblico italiano per Ballando con le stelle ma in realtà ha una carriera alle spalle molto importante, iniziata quando aveva appena 5 anni Al tempo ha esordito nel settore e poi si è specializzata, collezionando un successo dopo l'altro fino ad oggi È nota a tutti la sua battaglia con il cancro al seno, mentre della sua vita privata non tutti sanno che è sposata Nella sua vita c'è Ernestino Michelotto, personaggio molto famoso Noto con il nome di Tino Michelotto, è un famoso coreografo È una persona riservata ma spesso appare nei video della Smith sui social I due si sono sposati nel 1997 dopo la fine del primo matrimonio della donna Hanno un rapporto molto profondo, la danzatrice lo definisce il suo miglior alleato Ovviamente questo non vuol dire che hanno una vita piatta, come ci tiene a specificare il segreto è litigare, riderci sopra, dopo qualche giorno, rispetto reciproco e tanta gratitudine, soiegando anche Io sono fortunata che ho un marito che è sempre stato al mio fianco in qualsiasi situazione Lui è fortunato avere una donna come me che non mi fermo o mi arrendo per nessuno motivo in qualsiasi situazione La coppia più bella del mondo I due si sono incontrati grazie al ballo, passione comune e anche lavoro di entrambi, a raccontarlo a Domenica Innè stata proprio Carolyn Smith Lei era ancora sposata e lui aveva una fidanzata La ballerina faceva lezione a Torino e creava anche gli abiti per le scene I due sono diventati prima amici, dopo la fine della sua precedente relazione è nato qualcosa Nella lotta al tumore il suo compagno di vita è stato presente una spalla fondamentale lotto grazie a lui, è il mio migliore alleato Condividiamo ogni cosa, visite mediche, il giorno della chemioterapia, le iniziative benefiche È sempre con me, ha raccontato Carolyn